5 destra vai, 50 sconnesso destra vai, sconnesso 150 dopo il rotto stai a sinistra molta attenzione, destra 4, taglia sul salto 200 molta attenzione, culla in destra 5 con salto scende, attenzione alla pianta, destra 4 lunga sinistra 4 30 attenzione, sinistra 3, taglia in sinistra 3 per destra 3, taglia sporca è quella là? sì, è quella là 50 sinistra vai in convinto, sinistra 3, lunga, taglia, chiude in destra 3, chiude stacca in versione sinistra 30 accenno destro vai, in accenno sinistro vai accenno destro, in accenno sinistro attenzione, destra 3, spigola in sinistra vai, sconnesso 100 sconnessi sinistra 4, in sinistra 5, taglia 100 sinistra 3, taglia destra 3 vai, 100 alla pianta, sinistra 5, con vinto destra 4, 150 destra 4 lunga, chiude al bidone, 100 sinistra 4, lunga, chiude al cartello, 100 sinistra vai, lunga, chiude, in destra 4 alla casa, chiude e taglia al cancello, molta attenzione, sinistra 3, taglia, tardi, sporca per sinistra 3 destra 4, in attenzione, destra 3, lunga vai, sporca 100 sinistra 4, 2, tempi, diventa 3 per destra vai, stacca in sinistra 3, 50 attenzione, destra 3, sporca 100, stai a destra, sconnesso al cartello, attrizzale destra 4, per sinistra 4, sporca stacca la pianta destra 3 secondo me abbiamo fatto un tempone dalla madonna perché? è da mia impressione adesso vediamo fatti dire un po' di tempi adesso qua gli mettiamo una fascetta 3, 21 3, 0 che Grazie.